Un flash mob davanti alla sede della prefettura di Napoli in piazza del plebiscito per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla grave emergenza che vive il mondo del lavoro a seguito delle conseguenze economiche della pandemia e per presentare le proposte del sindacato per il rilancio delle attività produttive e dei diritti dei lavoratori. Celebreranno in questo modo il primo maggio i rappresentanti della Confederazione Sindacale CNAL. Il programma della festa dei lavoratori è stato annunciato dal segretario generale della Confederazione Salvatore Ronghi che ha tenuto una conferenza stampa insieme con la segretaria confederale Gabriela Peluso e il segretario territoriale della città metropolitana di Napoli Giovanni Arnone. L'Italia rinasce se puntiamo non sull'assistenzialismo ma sul lavoro vero altrimenti saremo fuori dall'Europa in termini economici con grande rischio per le nostre prospettive ed ecco perché il primo maggio non può che essere non tanto la celebrazione ma l'invito a questi governi di smettere con il solo assistenzialismo ma di mettere in campo politiche attive del lavoro e applicare i due articoli fondamentali della Costituzione. Come canal saremo in piazza con un flash mob a piazza del plebiscito e saremo collegati con diverse città di Italia soprattutto laddove ci sono le gravi problematiche del lavoro provocate dalla pandemia e particolarmente voglio sottolineare l'importanza di dare slancio al mondo del lavoro nel sud Italia. Saremo collegati con altre città d'Italia, inoltre faccio un appello al nostro segretario nazionale perché visto e considerato che a breve ci saranno un sacco di licenziamenti come previsto anche dal nostro Premier Draghi, dobbiamo chiedere all'AMPAL di attivare l'apprendistato in deroga.